Un caro saluto a tutti, eccoci di nuovo insieme per poter parlare della figura e dell'opera di Ellen White. Ci stiamo occupando, questo è il terzo incontro, del tema degli extraterrestri. Cosa ha detto Ellen White sugli extraterrestri? Beh, lei non li ha chiamati extraterrestri, ma ha detto qualcosa a riguardo. La cosa più importante è che, ed è il tema e il titolo del nostro incontro, noi possiamo essere edotti da come interpretare il fenomeno, di come poter capire il fenomeno stesso. E lei, Ellen White, dice una cosa molto interessante. Solo coloro che studiano diligentemente le scritture saranno protetti contro il grande inganno che sedurrà il mondo. Ora, studiare la Bibbia per capire gli extraterrestri? Sì, probabilmente sì. Scrive Heisman in un libro del 1994, sui famosi cerchi nel grano, che questi cerchi nel grano, che compaiono così spontaneamente, a parte l'80% delle truffe, ma con quelli ritenuti scientificamente attendibili, perché ci sono delle cose, tra virgolette, scientificamente inspiegabili e sovrannaturali, noi possiamo dire che, con Heisman, questi cerchi nel grano sono stati creati dagli extraterrestri perché vogliono mettersi in contatto con noi e perché ci vogliono dire che stanno per tornare. E infatti Ellen White diceva che, alla fine dei tempi, fenomeni sovrannaturali appariranno nel cielo. Ecco, diciamo in questo caso possiamo dirlo anche sulla terra, perché i cerchi nel grano sono fenomeni che si producono sui campi di grano, di colza, di tutto il mondo ormai. Un altro problema che cozza contro gli insegnamenti della Bibbia, ecco perché si diceva che la Bibbia ci può aiutare a capire il fenomeno e che la maggior parte di queste fenomenologie hanno come tramite i medium. Cioè ci sono dei medium che hanno, in trance, detto, comparirà un cerchio in questo campo, in questo giorno e la cosa è avvenuta. E poi sempre questi stessi medium dicono di essere in contatto medianico e telepatico con questi esseri extraterrestri. Quindi abbiamo qui un'altra attività, un'esperienza che cozza con l'insegnamento della Bibbia. La Bibbia dice no ai medium, no agli spiritisti. In questa fenomenologia degli extraterrestri invece i medium sono quasi indispensabili. E ancora Hansmann dice una cosa molto interessante. Per incredibile che possa sembrare, pagina 158 del suo libro sui cerchi nel grano, tutto ciò induce a credere che si stia preparando quello che le profezie della Bibbia e di altri testi sacri hanno previsto per i nostri tempi. Il ritorno degli dèi. Ecco, ma quali dèi? Il ritorno forse anche del Cristo con un disco volante? Beh, diciamo che sono in molti a crederci, soprattutto in ambito cristiano. E in un libro scritto da Roberto Pinotti, uno dei più seri ricercatori del fenomeno ufologico, è scritto che per esempio anche il Vaticano ha una sua specola che non si trova più a Castel Gandolfo soltanto, ma sul monte Graham in Arizona, negli Stati Uniti, e che la direzione di essa è stata affidata al gesuita statunitense padre Georg Cohen. E poi a sua volta come successore è andato invece la direzione all'argentino padre José Gabriel Fuenas, il quale in un'intervista successiva al suo insediamento ha dichiarato che, certo, l'universo brulica di vita e domani dovremo fatalmente attenderci un contatto con extraterrestri, che vanno considerati i nostri fratelli nel cosmo. E non a caso l'osservatore romano del 14 maggio del 2008, quindi l'organo ufficiale del Vaticano, ha intitolato l'intervista a padre Fuenas, l'extraterrestre è mio fratello. E non a caso, sempre in ambito Vaticano, Papa Francesco rispondendo alla domanda di un bambino che gli chiedeva se esistono i marziani e come comportarci, con loro Francesco seriamente diceva ma noi li potremmo battezzare appena arrivano. Ora, un altro punto di scontro tra la Bibbia e il fenomeno extraterrestre sono i messaggi veicolati da questi extraterrestri. Uno dei più accreditati rappresentanti del fenomeno ufologico è Giorgio Bongiovanni, quel signore che ha le stigmate in fronte, sulle mani e sui piedi, il quale dice di averle ricevute a Fatima dalla Madonna. Lui ha scritto, ha redatto almeno in tempi passati, io adesso non lo seguo più, la rivista Non Siamo Soli, proprio per dirci che il fenomeno ufo è un fenomeno di origine divina. Praticamente gli extraterrestri sarebbero gli angeli che stanno tornando sulla Terra. Ora praticamente questo messaggio glielo ha dato la Madonna a Fatima, credo negli anni 70 e poi nel 1989, perché ebbe un'altra estasi nell'89. Ma insomma diciamo che per riassumere questa fenomenologia diciamo di stigmate gli sarebbe stata data Giorgio Bongiovanni, ripeto, dall'apparizione di Fatima e l'apparizione di Fatima, che praticamente è completamente cattolica, diciamo che non è in armonia con la Bibbia, perché sembra che la Madonna abbia detto fin dalle prime manifestazioni che il fenomeno ufo è da accreditarsi come divino e una cosa importante è che c'è stata una specialissima rivelazione della Madonna di Fatima a Giorgio Bongiovanni. Ora, logicamente credo che il Vaticano non accolga questa esperienza di Bongiovanni e neppure la comunicazione che gli ha dato la Madonna, la presunta Madonna di Fatima, perché la Madonna di Fatima avrebbe detto a Giorgio Bongiovanni il 13 aprile 1989 che Giorgio Bongiovanni in una vita precedente era stato Francesco, uno dei tre pastorelli di Fatima. Ecco, quindi la Madonna accrediterebbe l'idea della reincarnazione, cosa che la Bibbia invece non accredita. La Bibbia in ebrei capitolo 9 dice è stabilito che si muoia una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Come mai allora la Madonna di Giorgio Bongiovanni dice che ci sono diverse incarnazioni, cioè predica la reincarnazione? Ecco, anche in questo caso il fenomeno ufologico degli extraterrestri presenta molte critiche, molte possibilità di critica rispetto alla Bibbia. Abbiamo un altro fatto molto sconcertante che riguarda il circolo medianico della pace di Berlino, già dalla parola si capisce che queste persone sono dei medium, i quali ricevono, le quali ricevono dagli extraterrestri le comunicazioni. In questo caso per il circolo medianico della pace di Herbert Victor Speer, gli extraterrestri dicono di avere un capo, una specie di Cristo cosmico, un messia, che si chiama Ashtar Sheran e loro sarebbero i famosi Santini. Nel libro Allarmi dal Cosmo, del circolo medianico della pace, parlerebbe Ashtar Sheran, è scritto, quando siamo entrati in contatto con voi a Fatima, quindi ritorna il discorso di Fatima, quando una nostra astronave è giunta sul posto convenuto, nessuno ci ha scambiato per quello che siamo, ma ci hanno scambiato per un fenomeno divino, come era già accaduto una volta sul monte Sinai, quindi a Fatima siamo stati noi extraterrestri che abbiamo creato tutto quello che è successo, come lo creammo al tempo di Mosè sul monte Sinai. Ecco quindi anche in questo caso, come vedete, c'è una citazione delle esperienze bibliche, ma in contrasto con l'esperienza della Bibbia, con i messaggi della Bibbia. In un altro libro scritto da Ashtar Sheran, ora diremo questo, messaggi all'umanità si evince quanto segue, è da tenere presente quello che dicono e fanno scrivere gli extraterrestri, se crediamo che questi siano in contatto con dei contattisti, con dei medium, la cosa è possibile. Bene, Ashtar Sheran dice che noi vogliamo utilizzare i medium per poter parlare con voi, anche in questo caso, come per il fenomeno dei cerchi nel grano, l'elemento cardine tra l'uomo e gli extraterrestri sono i medium che, ripeto, sono invece ritenuti malsani dalla Bibbia, dagli scrittori biblici. E in questo libro, ripeto, messaggi all'umanità, Ashtar Sheran ci dice che bisogna credere ai comandamenti ricevuti da Mosè sul monte Sinai, perché i comandamenti sono stati dati a Mosè per via telepatica proprio dal gruppo di Ashtar Sheran, da questi extraterrestri. Poi dice, vogliamo informarvi e convincervi che la grande legislazione dei dieci comandamenti è assolutamente vera, poiché i nostri antenati hanno portato, i nostri antenati extraterrestri, hanno portato questa legge sulla terra per ordine degli angeli e l'hanno consegnata a Mosè. Quindi anche in questo caso la Bibbia viene un po' riscritta, perché a Mosè sul monte Sinai non sarebbe apparso Dio, ma secondo Ashtar Sheran sarebbero apparsi gli extraterrestri, i quali avrebbero dato i dieci comandamenti. Però ci tengono a informarci che sì, i dieci comandamenti sono veri, sono da osservare, ma a pagina 104 del libro citato, messaggi all'umanità, Ashtar Sheran, l'extraterrestre, ci dice la cosiddetta Sacra Scrittura è piena di errori dimostrabili e sarebbe una vera riforma mondiale a salvezza dell'umanità se si emendasse finalmente la Sacra Scrittura da tutti gli errori. Ecco, quindi praticamente loro ci dicono sì, va bene quello che è scritto nella Bibbia, ma purtroppo ci sono molti errori. Ecco, noi siamo venuti a correggerli. Uno di questi errori potrebbe essere appunto l'idea veicolata dall'autore dell'Epistola agli ebrei che si muore una sola volta e loro sono venuti a correggere dicendo no, si muore tante volte, si rinasce tante volte eccetera eccetera. E infatti alla pagina 193 dello stesso libro gettano la maschera e dicono dovete ripristinare l'insegnamento della reincarnazione come anche la continuazione della vita dopo il distacco dal corpo. Ecco, praticamente ci dicono due bestemmie che sulla Bibbia non esistono. Primo la reincarnazione, secondo l'immortalità dell'anima. Sono due concetti che non solo la Bibbia ignora, ma li combatte proprio, li combatte proprio. In un altro libro intitolato Armageddon, la battaglia finale, gli UFO salveranno l'umanità, il solito Ashtar Sheran introduce l'idea del ritorno insomma del Messia. E nel sezione, nel capitolo intitolato Una seduta medianica, quindi come vedete ritorna anche qui l'idea che questi messaggi vengono consegnati a dei medium, che ripeto la Bibbia ne proibisce come attività ed esistenza. Alla pagina 133 si dice i messaggi di Ashtar Sheran superano per importanza tutte le dottrine religiose e sono in grado di apportare le necessarie correzioni alla Bibbia. Abbiamo visto che tipo di correzioni apportano alla Bibbia, la distruggono proprio. Ashtar Sheran, conclude il testo, è un maestro cosmico e in alcuni paesi lo si considera la stregua di un Messia riapparso tra noi. I suoi insegnamenti potrebbero salvare l'umanità. Ecco qua abbiamo scoperto che Ashtar Sheran si propone come Messia che deve tornare. La Bibbia stessa dice che il Messia tornerà, il secondo ritorno del Cristo, no? Ecco, tant'è vero che Von Daniken, un altro studioso che io non apprezzo molto, diciamo la verità, ma insomma un altro studioso del fenomeno ufologico, ci dice nel suo libro Il ritorno degli dèi quanto segue. L'attesa del ritorno degli dèi, quali che siano, era e resta una faccenda irrevocabile. Sono in discussione soltanto gli interrogativi su chi dovrà avvenire in realtà e quando. E poi aggiunge i cristiani e gli ebrei aspettano il Messia, i musulmani il Mahadi, che è semplicemente un nome diverso per indicare una figura messianica. Nell'ambito della religione ebraica si attende un'erede della casa di Davide, la cui origine tuttavia deriva in ultima analisi dalle nubi. Ecco, quindi praticamente dovrebbe tornare il Messia che tutti stanno aspettando. Poi, ancora alla pagina 138, Von Daniken dice, nella raffigurazione cristiana, Vangeli e Apocalisse, ma anche in quella laica, Enoch e i testi apocrifi, così come nel Corano dei musulmani, il ritorno del Messia viene messo in rapporto con il giudizio universale. Una potenza appare nel firmamento accompagnata da grande schiere celesti. I parsi chiamano questa potenza l'invincibile. I sumeri parlano del dio Anu, che torna dalla stella Aldebaran. I tibetani alludono ai Santi di lassù, che ristabiliscono sulla terra l'ordine antico. I Maya parlano dei tredici dei, che a loro volta torneranno per ristabilire l'ordine in ciò che essi stessi hanno creato. All'apparire di questa potenza sono collegati avvenimenti enigmatici in cielo. Ellen White diceva, ci saranno grandi manifestazioni sovrannaturali nel cielo. Un altro studioso, più che altro dei sumeri, ma anche molto affezionato all'idea degli extraterrestri, Zakaria Sitchin, nel suo libro Dio, Angeli ed Extraterrestri, dice una cosa molto rivelatrice, la leggo per intero, pagina 333 del libro citato. Immaginate che gli extraterrestri, dopo aver osservato gli eventi sulla terra, abbiano deciso di stabilire un contatto con i terrestri, usando le loro sofisticate tecnologie di comunicazione. Si rivolgono ai leader delle varie nazioni perché abbandonino le guerre e l'oppressione e pongano fine alla schiavitù umana promuovendo invece la libertà dell'uomo. Ecco, mentre negli anni 50 la narrazione sugli extraterrestri era terrorizzante e terrorifica, si diceva vengono per distruggere il pianeta Terra, oggi invece gli extraterrestri parlano di pace, dovrebbero tornare per aiutarci a risolvere i nostri problemi e a salvare il pianeta. Poi dice una cosa che ha già citato Ellen White, no? Grandi segni sovrannaturali, Sagaraia si ci dice. Così gli extraterrestri ricorrono ai miracoli per accrescere il loro ascendente sulla terra e i suoi abitanti con meraviglie sempre più portentose. Ecco, praticamente sia Ellen White che la Bibbia dice che alla fine dei tempi i falsi messia per convincere la gente utilizzeranno falsi miracoli, quindi cose straordinarie. Lo confermano non solo la Bibbia di Ellen White ma anche gli studiosi laici, no? Ecco, continua e conclude Zacharias Sitchin, attirata così l'attenzione dei terrestri e dei loro governanti, gli extraterrestri decidono che è giunto il momento di farsi vedere. Devono farsi vedere. In che modo? Dice, citando logicamente un suo sogno, una sua visione, no? Un suo desiderio. Ecco, una grande astronave arriva sulla terra, si apre un portello e arriva un personaggio dall'interno dell'astronave che dice al mondo, vi porto la pace. A me sembra di leggere la Bibbia nel passo in cui lo stesso apostolo Paolo dice quando diranno pace e sicurezza allora all'improvviso arriverà una grande catastrofe. Ora, questa idea dell'extraterrestre salvatore c'è stata veicolata da film di Hollywood, per esempio Cocon e Tea, eccetera, eccetera, dove lì vengono fuori gli extraterrestri come salvatori del mondo, come apportatori di vita, di energia nuova, ma addirittura il pericolo più grande, visto che gli extraterrestri stanno contattando gli umani, il pericolo più grande si trova nel fatto che praticamente, come dice il film Arrival, gli extraterrestri venendo a portare la pace la soluzione dei problemi a noi esseri umani, contattano i rappresentanti dell'ONU e l'ONU dovrebbe dare una certificazione, una garanzia di attendibilità agli extraterrestri. Voi direte ma è una sciocchezza. No, perché all'interno delle stanze dell'ONU c'è una camera chiamata Camera delle Meditazioni che è data in dotazione, insomma, a persone che vogliono parlare di spiritualità. Ora, questa camera è frequentata dal gruppo Lucis Trust, che è il gruppo della Alice Bailey, una spiritista seguace di un'altra spiritista, cioè della Elena Petrovna Blavansky. E all'interno di questa camera il Lucis Trust fa da organo consultivo con le Nazioni Unite, cioè dice ai grandi della Terra come dovrebbero comportarsi, cosa dovrebbero credere. E lei sta predicando, o beh, i suoi seguaci stanno predicando, all'interno delle Nazioni Unite sono credute, l'idea del ritorno del Cristo, il ritorno del Cristo. Solo che la Alice Bailey parla del Cristo non come ne parla la Bibbia, parla di un avatar. Il Cristo può essere il Buddha Maitreya, può essere il Mahadi, insomma, no? Il Cristo è l'unto, quindi non il Cristo della Bibbia, un Cristo, un Cristo che non è Dio. Infatti nell'agosto del 1934 la signora Bailey disse che tutti noi siamo discepoli, come il grande aspirante a essere discepoli, Gesù Cristo medesimo. Quindi Gesù Cristo è un discepolo, è un aspirante a essere un discepolo, ma non certamente il Messia, l'unico Messia di cui parla la Bibbia. E da qui appunto il tema del nostro incontro, l'extraterrestre in qualche modo scoperto proprio da chi conosce la Bibbia. E comunque nell'introduzione del suo libro Alice Bailey, nella sua preghiera generale che è letta in tutto il mondo, dai suoi seguaci, dice possa il Cristo tornare sulla terra. E quale Cristo? Anche in qui Alice Bailey non fa nessun riferimento al Cristo della Bibbia, ma a una specie di avatar, ripetiamo. Il suo libro, che ho qui sotto mano, Il ritorno del Cristo, è molto illustrativo a riguardo. Ora noi faremo a conclusione del nostro incontro una specie di rimbalzo, un confronto tra le dichiarazioni della signora Alice Bailey e quello che invece poi ha scritto Ellen White e dice la Bibbia. Alla pagina 25 e 26 Alice Bailey dice noi stiamo aspettando che si manifesti il Cristo e la radio, la stampa, la diffusione parleranno della sua venuta. Ecco, i rapidi mezzi di trasporto renderanno il Cristo accessibile ai numeri milioni di uomini, quali per mare, per terra, per via aerea, eccetera, eccetera. Ogni occhio lo vedrà, qui cita la Bibbia. Grazie ai mezzi di comunicazione, dice Alice Bailey, ogni occhio potrà vedere il Cristo e qui ci possiamo anche stare. Poi alla pagina 29 però va un po' più a profondo, in profondo e dice vi è inoltre un eccezionale risveglio dell'antico insegnamento del Buddha. Il Buddha è il simbolo dell'illuminazione e oggi in tutto il mondo si insiste molto sulla luce. Nel corso dei secoli milioni di uomini hanno riconosciuto nel Buddha un portatore di luce dai mondi superiori, quindi il Cristo della Alice Bailey non è il Cristo del Vangelo, insomma, è un Buddha, è un illuminato. Alla pagina 51 ci dice una cosa molto importante. Forse uno dei più importanti messaggi per chi legge queste parole è la grande verità della presenza fisica del Cristo su questa terra in questo momento e la dice in questo momento Cristo è già sulla terra. Cosa dovrebbe fare? Lo leggiamo alla pagina 59 e 60. Prima ciò che possa avvenire, il Cristo deve tornare in mezzo alle moltitudini, svolgere la propria parte nelle vicende del mondo e quindi praticamente in incarnazione fisica trovarsi dei collaboratori e comincerà a predicare in tutto il mondo. E alla pagina 112 ritroviamo uno dei messaggi di questo Cristo che invece è in contraddizione con la Bibbia, un messaggio che abbiamo appena visto da tutti i medium, i contattisti, quello della reincarnazione. Infatti la signora Bailey ci dice che questo Cristo insegnerà la dottrina o la teoria della reincarnazione. Dice la teoria della reincarnazione, se fosse stata esposta con più intelligenza sarebbe stata più generalmente accettata. E conclude, la dottrina della rinascita costituirà una delle note dominanti della nuova religione mondiale. Questo Cristo ci viene a portare praticamente una nuova religione mondiale e il cardine, il perno di questa nuova religione, addirittura dovrebbe essere la teoria della reincarnazione. E questo dovrebbe essere accettato soprattutto, è l'aspirazione, il desiderio della signora Bailey dall'ONU. E la dice che praticamente nell'Assemblea delle Nazioni Unite, pagina 79 del suo libro, sebbene non nel Consiglio di Sicurezza, praticamente dovrebbe essere accettato questo messaggio che lei porta. E vi ricordo che queste cose le dicono i seguaci dell'Alice Bailey nella famosa Camera delle Meditazioni. All'ONU si sta imparando che Cristo tornerà, porterà l'idea della reincarnazione per fondare una nuova religione universale che unifichi tutti. E poi, e concludo la carrellata della signora Bailey, alla pagina 21 del suo libro, dice una cosa sibillina e importante, che vedremo essere importante proprio nel confronto con Ellen White. dice nella pagina 21, Alice Bailey, questi il Cristo trasmetterà un messaggio che risanerà, additerà agli uomini il prossimo passo, illuminerà un oscuro problema mondiale fino ad oggi ignorato. E quale sarà mai questo problema? Ecco, lo vediamo in conclusione nel rimbarso tra dichiarazioni di Alice Bailey e dichiarazioni di Ellen White. Ora, il fatto che la signora Bailey dica che Cristo scenderà sulla Terra, come dicono anche gli extraterrestri, e comincerà a predicare in mezzo agli uomini, addirittura dice scenderà in Israele tutta la narrazione extraterrestre, dalla Palestina comincerà a predicare in tutto il mondo. Invece qui, con un confronto biblico, scopriamo che, prima Tessalonicesi, capitolo 4, una lettera che Paolo scrive appunto ai credenti di Tessalonica, Poi attenzione, noi che saremo ancora vivi, quando Cristo tornerà, saremo portati in alto tra le nubi, insieme con loro, per incontrare il Signore, il Signore nell'aria. Quindi, tutta la narrazione ufologica extraterrestre, quella di Alice Bailey, è una menzogna, secondo la Bibbia. Tutti ci dicono scenderanno sulla Terra gli extraterrestri, scenderà sulla Terra il Cristo, la Bibbia dice no, saremo noi ad essere trasportati. E questo è un segno distintivo, perché mentre le bugie dicono che scenderà sulla Terra il Cristo, la verità, la Bibbia dice, saremo noi a salire, proprio per distinguere la menzogna. Possibile che il ritorno del Cristo sia una menzogna veicolata dagli extraterrestri? Sì, è assolutamente così. Infatti diceva Alice Bailey, la grande verità che io vi comunico, che in questo momento Cristo è già sulla Terra. E vi ricordiamo che proprio Bon Giovanni e i suoi discepoli dicono che Cristo parla con loro. Ma Gesù dice, attenzione, quando vi diranno Cristo è nelle stanze interne, non ci credete. Perché? Perché Cristo, quando scende, sarà visibile a tutti e non scenderà sulla Terra. Ecco perché la Bibbia sconfessa gli extraterrestri. Manoscritto numero 8 della signora Ellen White. Satana farà qualsiasi cosa per sedurre gli uomini e allontanarli da Dio. Insieme ai suoi angeli decaduti apparirà sulla Terra sotto forme umane e cercherà di ingannare gli individui. Quindi è Satana che apparirà sulla Terra. Non come dice Alice Bailey o gli ufologi, no? Il Cristo o l'extraterrestre. No, assolutamente. Angeli del male sotto forma di uomini parleranno con chi conosce la verità. Messaggi scelti, volume terzo, pagina 411. E poi ancora, nel Gran Conflitto, Ellen White, alle pagine 552-560, dice una cosa molto importante, che molti saranno visitati da spiriti di demoni che impersonificheranno congiunti e amici defunti e insegneranno le teorie più pericolose, come per esempio quella della reincarnazione. E in Testimoni, su volume 8, pagina 28, Ellen White addirittura dice attenzione alle società segrete, e qui potremmo anche parlare di gruppi massonici, no? Satana verrà assumendo le sembianze di Cristo e opererà ogni possibile inganno in coloro che si riuniscono in società segrete. Vedremo come è successo a un cristiano, Roger Mornò, che prima spiritista e massone, se vogliamo, ha incontrato il Cristo e dice delle cose molto interessanti che vedremo in uno dei prossimi incontri. Infatti Alice Bailey, proprio a riguardo delle società segrete di cui parla male Ellen White, dice Cristo trasmetterà un messaggio che additerà agli uomini il prossimo passo, illuminerà un oscuro problema mondiale e, poi dice, dovete in qualche modo dare retta anche alla massoneria, che è un veicolo di informazioni esatte, no? Mentre Ellen White dice no, attenzione a questo. Alice Bailey, concludo, dice che quando Cristo apparirà darà un nuovo insegnamento, cose che il mondo non avrà mai sentito. In Principi di educazione cristiana, pagina 471-472, invece, Ellen White, per smascherare un falso ritorno di Cristo, operato dagli extraterrestri, da chi crede in queste teorie, dice Satana, travestito da angelo di luce, percorrerà la terra e farà miracoli, si esprimerà con parole bellissime, sentimenti elevati e farà opere buone, ma su un punto differirà, distoglierà le persone dalla legge di Dio. Ecco perché è importante la Bibbia e la legge che è veicolata dalla Bibbia, perché è un confronto per poter riconoscere le false dottrine e i falsi Messia, perché nel Gran Conflitto, pagina 624, Ellen White chiarisce definitivamente che Satana apparirà sulla terra impersonificando Cristo e dice guarirà i malati e nella sua veste di falso Cristo annuncerà, ecco il famoso annuncio di cui parlava Alice Bailey, il Cristo che tornerà darà una nuova indicazione, un nuovo messaggio che sconvolgerà la terra. Ellen White dice che questo Cristo falso, cioè Satana, farà proprio questa cosa, dirà di aver trasferito il riposo del sabato, quindi un comandamento di Dio, alla domenica, un comandamento dell'uomo, e ordinerà a tutti di santificare il giorno della domenica. Che cosa c'entra questa diatriba tra sabato e domenica? Perché mai il falso Cristo, Satana, quando apparirà alla fine dei tempi, si preoccuperà di far capire al mondo che il vero giorno del riposo non è il sabato, come dice la Bibbia. Qui c'è qualcosa di strano sotto che appunto ha bisogno di essere meglio definito ed è quello che faremo più avanti in altri incontri. Vi giunga il mio saluto a risentirci. Grazie. Grazie.